Sabonata, musica e scopo. Quanto faccio stasera se mi trovo, quant'atomia, quanti suoi accenti, musica eterna, antina e sempre nuova, che ti carizza come un mando di giallo e solucente. Musica che sa rilaterata in cani, un tempo quasi per di consistenza, una laturia semplice di un canto, diventa un ponte fra eluzioni e intime efficienze. Di chi, ogni nota è un impatto trascinante, ogni brano è un professo di fantasia, e invece l'argo, se un regno è l'anguia costante, la mente vola solo all'argo e viene la magia. Musica, chi non cerca paragonia, chi defisa con coraggio non ci viene, chi non ha la pianista che sta giù, ma porta sempre una ventana e primavera. E basta lui, con un semplice momento, i giardini che di chi ho le sensazioni, la sacro con il tuo cuore del tenso al pagamento e un calmo indefinito di mille che non si vuole. E oggi, in giustizia di luna, la nota è un calmo su fare l'esempio di la storia, che curando a sé e sapendo che luna sa dire sempre la sua parola. La parola che il dialogo che accende, processi familiari con credenza, incontri, con uno spenso e sentimento, che fa sempre vicino a sua presenza. L'estamorianza, con un processo di consegno, con una competenza, dura e serietà, addirittura con un carisma sempre vero e un assaglio professionale e diventato. la parola, tutto un delegato e sociale impegno, tutto un dinamismo e formativo esperienza, diventa responsabile dal presente, su meno di vita e valore della tale essenza. un cammino educativo, dei pensieri salienti a rilevanza, scomadolente, si fanno in due modi, mentre l'anno così intime dire la fraganza. E' un frutto di dipendio assai tenace il pane, che la ricerca vince, che cerca da infichita, che porta ad un viaggio immaginario, vince fuori e ogni significato questa vita.